Siamo nuovamente in diretta, intanto ci scrivono dei nostri radioascoltatori, ci scrive Silvia che ci sta seguendo, intanto la salutiamo, salutiamo anche Marco che ci sta seguendo e che ce lo fa sapere tramite la nostra pagina di Facebook. Vado a ricordare anche per mettersi in contatto con noi, sms al 342 4151406 oppure chiamandolo 0665796348, ancora lo 0665795328. L'ultima notizia di agenzia ci fa sapere che a Roma il sindaco Gianni Alemanno vieta i cortei in centro per un mese, soltanto sit-in, si darà infatti un sit-in, quello della FIOM che sarebbe dovuta essere una manifestazione proprio per quello che è avvenuto invece nella nostra città, nella città di Roma, nella giornata di sabato. Immagini, ripeto, che abbiamo visto tutti e che probabilmente rimarranno anche alla memoria nell'immaginario collettivo come quella di una manifestazione rovinata. Ma questa domanda la poniamo subito al premio Nobel, il professor Dario Fo. Buonasera. Buonasera, buonasera. Eccomi qua. Ecco, immagino anche lei abbia seguito la manifestazione che si è svolta nella giornata di sabato a Roma, la manifestazione degli indignati rovinata poi da quelle scene di violenza che scorrono ancora su tutti i telegiornali. Io penso con intenzione, è un'azione organizzata scientificamente addirittura, quella di sbattere per aria un sentimento, un movimento con delle idee chiare, più vite e soprattutto democratiche, che non fa altro che sollecitare la presa di posizione cosciente di tutte le persone che hanno un cervello e una onestà di vita oltre che di forma. Il guaio è che si ripetono ogni tanto, si vedono così apparire di nuovo degli organizzatori di Casara, come si dice a Roma, che distruggono proprio anche il modo di attendere la politica, è un modo di creare una specie di fastidio e soprattutto sollecitare coloro che vogliono eliminare ogni forma di critica e di denuncia in forma piana e di renderli responsabili, come ho visto fare ieri e ho sentito fare ieri da moltissimi giornalisti della destra che sono legati poi al carlo del Presidente e sono giornali suoi. Le chiedevo perché queste manifestazioni, poi sono manifestazioni che si sono svolte in tutto il mondo contemporaneamente anche, in Italia invece abbiamo assistito a questi episodi di violenza gli stessi ai quali abbiamo assistito già poco meno di un anno fa nel corso di altre manifestazioni, la manifestazione degli studenti, anche lì scene di violenza di questo tipo, aggiungo pure anche quella di Genova, esatto perché io mi riferisco alla nostra città, la città di Roma, ma lì bisogna aspettare che portino avanti le indagini come si deve, sappiamo che chiaramente, lo ha dichiarato la Polizia, ha gli elementi per poter indicare le forme di organizzazione e soprattutto una macchina che viene avanti ben organizzata e soprattutto cosciente del danno che riusciva a creare con una certa azione. Oggi Repubblica in un articolo fa presente che, intervistando praticamente uno dei partecipanti alla manifestazione, che addirittura ci sono stati dei campi di preparazione in Grecia. Adesso questo è tutto da verificare, ma può anche darsi benissimo, ad ogni modo è con decisione che bisogna bloccare e soprattutto sollecitare a una presa di coscienza da parte di ognuno, ed evitare che il pubblico venga preso da una specie di tormentone e che lasci corre la propria partecipazione. Il disastro sarebbe vedere gente che abbandona il campo perché dice no, non se ne può più, sono tutti uguali. Il qualunquismo stupido è facile quando si va a diventare ognuno uguale all'altro. Però c'è un aspetto confortante, molte persone hanno reagito, molte persone del corteo hanno reagito duramente. Ma io stavo sentendo delle trasmissioni televisive e il tormentone di gente di destra evidentemente era quello sono responsabili anche loro che hanno organizzato e non hanno previsto. Come? Erano loro che dovevano prevedere. Non è la polizia per caso, non sono le organizzazioni di difesa dei diritti umani, e soprattutto di diritti di politica e di chiarezza. Ecco, l'altra notizia forse alla quale si riferivano, professore, è che Indymedia, un portale insomma, aveva pubblicato nella mattinata di sabato un articolo dal titolo Insurrezione il 15 ottobre e sembrava una vera e propria chiamata alle armi che invitava i manifestanti a una lotta senza quartiere contro le forze del capitalismo globale, quindi le banche, ma anche contro le forze dell'ordine. Questo è un comunicato che ha fatto emergere Indymedia e probabilmente a questo si riferiscono. Sì, ma c'è anche l'altro discorso, che le stesse forze dell'ordine si lamentano di non avere i mezzi per poter intervenire e soprattutto seguire con attenzione quello che succede intorno. Cioè dice, noi siamo a mani nude, non abbiamo gli strumenti, non abbiamo la possibilità di un'organizzazione per controllare e capire che cosa succede, cioè fotografare la situazione prima che degeneri. Senta, però c'è una differenza rispetto ad altri cortei. Normalmente i cortei dei partiti e dei sindacati hanno un proprio servizio d'ordine. Questa era una manifestazione spontanea, per cui probabilmente gli stessi organizzatori non erano pronti a fronteggiare eventuali infiltrati. Ma è nata l'altro ieri, non si può pretendere che in breve tempo abbiano già una struttura e un'organizzazione così che noi vediamo proiettata in un tempo ormai remoto. Certo, certo. Però questo ha contribuito probabilmente alla possibilità di infiltrazioni. Sì, ma non si può pretendere che siano gli organizzatori a selezionare. L'abbiamo sentito urlare fuori, andatevi via di qua, non c'entrate niente con noi. L'abbiamo sentito proprio. Certo, certo. E quindi la cosa orrenda, peggiore, è il fatto di cercare di rendere colpevoli questi gruppi perché non si sono organizzati apposta e come si deve anche nel controllo e nel portare avanti una difesa a priori. No, no, la mia era solo una constatazione, nel senso che proprio la spontaneità del movimento non ha garantito. Sì, ma non è una colpa. No, non è una colpa. È un dato di fatto praticamente che ha contribuito purtroppo negativamente rispetto alla manifestazione. negativi, ma la prima cosa che molti hanno lamentato, democratici, è il fatto che la polizia si è trovata impotente e spiazzata davanti al muoversi di queste orde. E questo è andato di fatto. Questo purtroppo è quello a cui abbiamo anche assistito visivamente con le immagini delle stesse camionette, della stessa camionetta di Carabinieri incendiata nel centro di Roma. Scene alle quali non vorremmo mai più assistere, alle quali non avremmo nemmeno voluto assistere. L'abbiamo vista altre volte, anche col morto. Esatto, certo. E quindi ci auguriamo che questo non accada. Noi intanto passiamo anche a ringraziarla per la disponibilità che è sempre nei confronti della nostra emittente e della nostra trasmissione. Grazie, buonasera. Grazie, complimenti pure. Grazie, buonasera. Grazie, grazie al premio Nobel e il professor Dario Fo. Intanto noi siamo giunti quasi al termine di questa nostra prima mezz'ora insieme. Dunque, subito dopo la pausa, torneremo con nuovi ospiti, rimarremo sull'argomento, magari entrando più direttamente all'interno della nostra città, per cercare anche tramite testimonianze di coloro che poi hanno anche sentito, diciamo, hanno visto, hanno toccato con mano queste situazioni. Per esempio il sottosegretario beni culturali, l'onorevole Francesco Giro, che nella giornata di oggi ha effettuato una serie di sopralluoghi all'interno della nostra città, proprio sui luoghi maggiormente coinvolti da questi episodi di violenza. Ivo, commentavamo poco prima della pausa, anche della chiesa di San Marcellino, la chiesa all'incrocio tra via Merulana e via Lapicana. Lo sfregio, un vero e proprio sfregio praticamente, fatto alla chiesa cattolica e ai cattolici. Esatto, di questo anche ne parleremo. Io vado a ricordare ancora una volta ai nostri radioascoltatori che per mettersi in contatto con noi basta mandare un sms al 342 4151406, intanto salutiamo Fabrizio che ci fa sapere di essersi appena sintonizzato all'ascolto, oppure di chiamare lo 0665796348 o ancora lo 0665795328, oppure scrivete semplicemente sulle nostre pagine di Facebook, quella privata, quella relativa a Radio Yes Roma, oppure quella relativa a Roma Anch'io, non ci fermiamo.